In diretta dal Giffoni Film Festival, siamo con il regista Nan. Come essere qui al Giffoni Film Festival e come è andato l'incontro con i giovani? È un paio molto grande, molti grandi cose da vedere, è un paio molto significativo culturale, sono felice di essere parte di questo, di stare nel stesso paio, di trovare un po' di stuola. E' stata una buona esperienza di essere qui, parlare con una audiencia pasionale. Spero che i miei film abbiano un impatto sulle loro in qualche modo. E parlare con loro per la prima volta in mia vita, è stato un po' nervoso, ma è stata una buona esperienza, mi piace molto. E' stato un po' nervoso di trovarmi qui a Giffoni e di aver incontrato un pubblico così appassionato. Spero che il mio film sia riuscito in qualche modo a lasciare un segno, almeno qualcuno di loro. E per me è veramente bellissimo stare qui oggi.